Per dire il mio senso, Galileo Galilei 1564-1842, fisico, astronomo, filosofo e matematico, considerato il padre della scienza moderna, nelle opere, volume 7,448, dice Quanto al miracolo, ricorriamovi dopo che avremo sentito i discorsi contenuti dentro ai termini naturali. Se ben per dire il mio senso, a me si rappresentano miracolose tutte le opere della natura e di Dio. Perché? Commento Perché lo scienziato illuminato, che come tale vive di mente ma anche di coscienza, intuisce che la mente è imperi al cospetto del sentire.